Come state? Bentornati sul mio canale Allora, oggi un nuovo video Non so esattamente quando vi pubblicherò questo video Se vi pubblicherò prima questo o prima l'altro che ho fatto Adesso vediamo un po' Sono qui con la tazza di Starbucks Comunque a proposito di tazze Il video sulle tazze arriverà a breve Quindi non vi preoccupate Ma pazientate che presto arriverà anche quel video Allora, allora, allora Come stavo dicendo sotto al mio ultimo video Quello dei preferiti del periodo E anche su Instagram Mi avete chiesto Mary Ci puoi fare un video di tuoi regali di Natale E quindi ne ho approfittato per fare questo video Dove vi faccio vedere giusto due regalini E poi uno show and tell molto bello Vedo tanti video su YouTube Di regali di Natale Stra mega di lusso Vedi che ultimamente ho visto Dei video Sia qui ma anche su Instagram Di persone che spacchettavano E anche su Facebook Con mio marito abbiamo visto Di persone che spacchettavano Cose da 4.000 euro 2.000 euro Che nella vita reale Tutti i giorni Quando le persone ostentano Quello che hanno La trovo proprio Di una passezza Cioè voglio dire Cioè C'avete i soldi per Comprare Le cose costose Ma che ben venga Mi fa Cioè Fate quello che volete Ma Intendo regali Regali Super super costosi Oppure Cose proprio costose Cioè Non parlo di cose Di 100 150 euro Che Tutti Cioè Quasi tutti Possono Permetterselo bene o male Ma io Intendo cose Proprio di 2.000 4.000 euro Cioè Proprio cose A livello di Questo dico Comunque Ero un po' indecisa Se fare il video Dei regali di Natale Insomma Perché io non ho ricevuto Niente Sono stata cantiva Ma Il fatto è che Io non ho tante persone Che mi fanno i regali Quindi Cioè Chi me lo fa A parte mia mamma Mio socero E mio marito Le mie sorelle Cioè Quelli sono le persone Quindi Questo è quanto E quindi Ha detto che faccio Vedere Innanzitutto Io Emi Il regalo Ancora Non ce lo siamo fatti Quindi Non vedrete Il regalo Di Emi Di mio marito Perché Penso che Nei saldi Ci compreremo Qualcosa A vicenda Oppure Prenoteremo Un viaggetto Qualcosina Quindi Noi Non ci siamo Fatti Niente Anche se Quest'anno Devo dire Ci siamo Regalati L'anno Che è passato L'anno scorso Ci siamo Regalati Diversi Weekend Però Il regalo Nostro Ancora Non lo vedrete Perché Ancora Non ce lo siamo Fatto Poi Mia Mamma Invece Mia mamma Mio socero Mi hanno Regalato I soldini Quindi Sia mia mamma Che mio socero Mi hanno Regalato Dei soldini Quindi Vi faccio Vedere I soldini Quindi Questo è Mentre Vi faccio Vedere Il mio Autoregalo Che Poi Direte Mary Hai parlato Fino a Modi Non spendere Soldi E poi Tu ti compri Questo Però Ragazzi Questo Costa Poco In confronto A Cose Che ho Visto Che costano Migliori Tadà Yuju Allora Vabbè Non è una marca Di lusso Sicuramente Però È una marca Che a me piace Tantissimo Anche A livello Di abbigliamento Questa borsa E me ne sono Innamorata Su Zalando E l'ho Pagata Anziché Cento Centocinquanta Centoquaranta L'ho pagata Cento Euro E quindi È un mio Regalo Il mio Autoregalo Di Natale È stato Questo Ed è Questa borsa Con i manici Così A me La grandezza Delle borse Che piace In assoluto È questa Vedete Così Piccolina Però Molto Capiente Così Con questi Manici E poi Ha la sua Tracolla Vedete La sua Tracollina Qua Che io Uso Perché a me Piacciono Le borse A tracolla Sono le mie Preferite In assoluto E devono Essere Piccole Perché odio Quei borzoni Enormi Che sembra Che sto andando A fare La trasferta Di non so Chi Ed è Peragliosa E questa L'ho messa Anche Per andare A Venezia Infatti Trovate Una foto Su Instagram Dove L'ha Indosso Dedicote Badge E ho messo Questa Qua Inappinato Nira E praticamente C'è la scritta Lì giù E ovviamente Questa Non è pelle Vera Perché io Non compro Borsi Di pelle Vera Infatti Ho visto Una Michael Corsa Che mi piaceva Anche Scontata Sempre sulle 100 euro Però Non l'ho comprata Perché era Di pelle E io Non Non voglio Borsi Di pelle E E quindi Vedete All'interno È rosa E c'è un sacco Di tasche Qua 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 Qui in mezzo Anche un'altra Tasca Bellissima Ragazzi Super comoda Super comoda Super capiente Mi piace Tantissimo Quindi Questo Mia sorella Anna Mi ha regalato Questa Della Berlì Che è praticamente Una bomba Da bagno Però All'interno C'è il Bagno crema Bagno crema Sì Questo Lo devo mettere Nella vasca Molto carino Vedete Tipo Una pallina Di natale Però con dentro Il bagno crema Con le rinne Poi L'altra mia sorella Mia sorella Chiara Un quadretto Che si appoggia Anche così E io questo Lo voglio utilizzare Magari Nei mesi Che vanno Da maggio A settembre Oppure anzi No Da maggio Ad agosto Perché è un quadretto Stile Marino Come vedete Ci sono le Conchiglie Il salvagente E dentro Ha messo Una foto mia E di Emi Al mare Qui stavamo Tropea Sicuramente Tropea Comunque Lei Ha messo Al suo interno C'è questo Dentro questo Quadretto La nostra foto E quindi È molto carino Come Come regalo Tra l'altro Guarda Da notare Il mio viso Questo Quando sono a mare Io Scimonisco Sono pensierini Che però Sono Molto carini Infatti Io dicevo Maro Sono da gente Che hanno avuto Sti regali Stramegalus Però sinceramente Non me ne friga Proprio niente Perché Apprezzo Le cose Fatte Con Con Il cuore Poi Mio zio Mi ha fatto Questa Guardate Com'è carina Ed è Io la Tenevo appesa All'albero Di Natale È Una pallina Di Natale In legno E ha Ha Inciso I nomi Dei miei nonni I miei nonni Che non ci sono più E quindi Adesso Ho la pallina Personalizzata Con i nomi Dei miei nonni Avvisa L'albero Veramente Molto carina E la figlia Di mio zio Cioè mia cucina Mi ha regalato Anche lei Cosina Che però Non ho qui Ma ho rimasto A casa di A casa mia Cioè a casa di Mia mamma E Una decorazione Natalizia Che vi farò vedere Sicuramente In un prossimo video Perché Momentaneamente Non ce l'ho qui Con me E mio padre Mi ha preso Delle pantofole Che sono Veramente Buffe Veramente Buffe Ma Guardate Ste pantofole Cioè sono Cioè io penso Che lui Abbia la fissazione Per le crocs Perché Se le Cioè ce le ha Anche lui Tiene le crocs Normali Che tra l'altro Io odio Cioè a me le crocs Veramente Papà mia Sono orribili E Non le metterei Nemmeno sotto Se uno mi paga Cioè veramente Non mi piacciono Ma nemmeno in casa Con proprio Brutte 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 Cioè secondo me Sono proprio le scarpe Più brutte Mai create Nella storia Dell'umanità A parte i bambini Che sono bellini Comunque Mi ha Ha preso Tutte e tre Noi Queste che hanno il pelo E fanno morire Perché Più che crocs A me sembrano Degli zoccoletti Olandesi Cioè guardate Mi fanno ridere Cioè Ho il pelo dentro Che sono tipo Una stufa Nei piedi E se le prese Poi pure a lui Giustamente Perché Ovvio Cioè Ha proprio la fissazione Per le crocs Sono di una marca Che si chiama Stoker Comunque mi fanno Troppo ridere Perché sembrano Degli zoccoletti E quindi Questo È un altro Pensierino Diciamo così Tra l'altro Sono di gomma E quindi Fanno veramente Un rumore Molto carino Siamo a Shin Allora Shin Come sapete Io ho un codice Sconto Sempre di Shin Che è del 15% Però Giù in infobox Trovate Tutti i dettagli Cioè Il codice sconto Attivo Che adesso In prossimità Dei saldi Fa ancora più comodo Perché le cose Le pagherete Veramente Pochissimo E vi lascio E vi lascio Anche I link Delle cose Che vi mostro E così Le vedete Per bene E se siete interessati Vi fate un'idea Allora Dota blu Semplicissima Vedete così Un pantalone Jokers E questo qua C'è in tanti colori Anche verde Marrone Bianca Però io l'ho presa blu Ed è XS Vedete Blu così Non so se riesco Ad indossarle Perché oggi Vado un po' Di fritta Comunque Io vi lascio I link Così voi Aprite il link E vedete Perfettamente Com'è Quindi È una semplicissima Tutta blu Nevi Felpa Dentro Quindi è molto calda Blu Vabbè È un po' acetata Qua fuori Però dentro È super Super Felpata Vedete È molto 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 Carina Ed è un blu scuro Un blu nevi Questo è un cardigan Praticamente È un cardigan Nero Vedete Non so se si vede Non si vede niente Anche se io lo indosso Non si vede niente Praticamente Comunque Comunque è un cardigan Nero Che così Non sembra niente di che Però vi assicuro Che è molto bello Semplice Anche con una camicia sotto Oppure un maiancino A collo alto Così Nero E ha la sua cinturina In vita Però non so se vedete Ma ho questa maglia Che praticamente È una felpa marrone Molto calda Devo dire Vedete È marrone Scuro Scuro Marrone Cioccolato Sì Marrone Cioccolato Ed è un maione Semplice Molto Oversides Vedete Vabbè È taglia S Però a me va Molto largo Col cappuccio Vedete C'è anche Il cappuccio Così Proprio una felpa Però anche se È oversides A mi piace Devo dire la verità C'è questo Che è un pantalone In maglia A palazzo L'unica cosa È che mi va Grande Quindi La maglia Felpa Diciamo La posso usare Per uscire Mentre il pantalone No Quindi o lo uso Per stare in casa Come pigiama Perché io spesso Lo faccio Oppure Non lo so Adesso vedo un po' Comunque È questo È troppo bello Però È veramente Un completo Bellissimo Vedete È un completo In maglia E chi è più alto Di me Sicuramente Gli sta meglio Vedete A costine Marrone A palazzo È troppo bello Mi piace un sacco Peccato Che mi va Largo E lungo Però Io Mi trovo Molto in difficoltà A volte Con i pantaloni Di scena E le tute Perché Essendo Piccolina Non tutto Mi sta bene Poi Questo super cappottone Questo super cappottone Verde Che sembra una pecora Praticamente Un montone Un trench Super super caldo A montone Però mi va Larghissimo E lunghissimo Cioè Questo anche se Taglia XS Mi va Largo Quindi Devo Darlo A mia mamma O alle mie sorelle Vedete A me piaceva Tantissimo Con le tasche Vedete È troppo Bello Cioè Chi è alto Chi è più alto Di me Cioè Chi è più alto Di un metro e sessantacinque O un metro e sessanta Sicuramente Gli sta bene E c'ha le maniche Così Troppo bella Mi piace È un po' Versailles Però È bello Vedete È un cappottone Super caldo E vi lascio E vi lascio la foto Così vedete Perfettamente Come rende Poi Altra cosa Che mi piace Tantissimo È questa Specie di Pellicciotto Sul sito Sembra Sul sito Sembra Più Un teddy Ma in realtà È un pellicciotto Marrone Vedete Con le tasche È troppo Bello Questo XS E mi va bene E Non è lungo Arriva più o meno Un po' più sopra Del ginocchio Però È molto Bello Però Sempre Cose per casa Perché Io sono un appassionata Di cose per la casa E Quindi Ho preso Questo Che è un cuscino Perché Appena tolgo Le cose di Natale Te li decoro Di nuovo Come Prima Però Voglio cambiare Le fedele Dei cuscini E ho preso Questa qua Per Forse però Proprio per la stanza Dove mi trovo Ed è un cuscino Con Questo pavone Sopra Vedete Questa bella coda Di pavone Su Troppo bello Ipnotico Vedete E poi Costano pochissimo Cioè Manco a dirlo Nella 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 Nel salone Perché ho il tappeto nero E l'arrido È mezzo nero Anche Quindi ci sta molto bene Vedete Nero È dorato Così Molto bello Potevano Potevano prendere Delle palline Di natale Ovviamente Sì E ho preso Palline di natale Nere Per L'albero di natale Che farò Tra qualche anno Adesso vediamo Già quest'anno Ho messo Qualche pallina Nera Però Voglio farlo Ancora più nero La prossima volta E Ho preso queste Glitterate Così Opache E Guardate queste Come sono belle Se non sbaglio Sono 32 Sì Dovrebbero essere 32 palline Ho 32 Ho 36 Ma se non sbaglio Ho preso 32 Sono meravigliose E su Shein Ne trovate Veramente Di ogni tipo Quindi Top Sono bellissime Veramente Bellissime Belle L'alberello Piccolo Ho preso Questo Che è un set Di decorazioni Per l'albero Sia da mettere Su alberelli Piccoli Però anche Sull'albero Normale Grande Di decorazioni Anni 90 80 90 Appena le ho viste Le ho dovute Prendere Ragazzi Perché Ha fatto Un tuffo Nel mio Passato Nella mia infanzia E Questi Chi se li ricorda Questi Babbo Natalini Piccoli Ve li ricordate Io li mettevo Quando ero piccola Erano i miei preferiti I pacchettini Le pigne Le pigne Poi ci sono le caramelle Le campanelle E tutti questi Candy cane E proprio Cioè Proprio sul sito Di Shin Sta scritto Decorazioni 36 pezzi Anni 80 90 Belle Ho fatto Veramente Un tuffo Nella Nella mia infanzia Negli alberi Che facevo Quando ero piccola Con mia nonna E anche A casa mia E niente ragazzi Quindi Questo è quanto Spero che questo video Vi abbia Comunque Rilassato Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao ciao